bene raga oggi facciamo un tron d'arrotte faccio vedere le cose che vi sa bene per fare un tron d'arrotte un cosa per tagliare trapano questa staffa con ferro poi il perno queste cose qui e le tavole e le scudette questo video è con il cubico se mi piace ecco questo video iniziamo il video ho segnato la canasse io ci metto l'altro al destro per tagliare il diritto io ci metto io ci metto un po' 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.